E' già in testa la corsa e vi rimarrà fino in tempo. La Giulia 1.6 GTA ha già strabiliato tutti al suo debut italiano nella categoria turismo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Modeli R20. Mai avremmo immaginato, fino a qualche mese fa, di presentarvi un prodotto senza incontrarvi, senza potervelo far vedere fisicamente e farvelo provare. Che è la cosa a cui da sempre teniamo di più. Questo vale in generale per qualsiasi nostro prodotto, ma in particolare quando parliamo di una vettura come la Quadrifoglio. E' difficile trasferire a parole le sensazioni che soltanto un volante sa restituire. E infatti non è quello che cercheremo di fare oggi. Oggi cercheremo di portarvi a bordo in modo un po' diverso dal solito. E' inutile dirvi che anche per quanto riguarda il lancio della Giulia GTA era previsto qualcosa di diverso, da vivere insieme. Era il primo appuntamento per festeggiare con voi il centodecimo anniversario di Alfa Romeo. Ma per forza di cose abbiamo poi cambiato rapidamente il format presentandovela online. In realtà è stato bellissimo lo stesso e vi assicuro che ci rifaremo. E oggi da casa nostra vogliamo parlarvi di Quadrifoglio. E parlo al plurale perché ho invitato tre colleghi. Ho il piacere di avere con noi oggi Rossella Guasco, responsabile Color e Materia presso il Centro Stile Alfa Romeo. Sergio Munò, responsabile Brand Marketing Communication, che ci racconterà come sta cambiando e come cambierà la comunicazione di Alfa Romeo. E Fabio Migliavacca, in quanto responsabile del Marketing di Prodotto. E lascerei la parola proprio a Fabio che le Quadrifoglio le ha viste nascere. Fabio. Buongiorno a tutti e grazie Alessandro. Si, in effetti posso dire di aver visto nascere Quadrifoglio e aver seguito tutte le sue evoluzioni fino a quella che presentiamo oggi. Per realizzarla io e il mio team abbiamo lavorato fin dall'inizio mantenendo come focus la performance e l'attenzione al dettaglio che richiede da da sempre il Brand Alfa Romeo. Quadrifoglio merita un momento di presentazione tutto suo, da qui la scelta. Certo, provarla sarebbe stato l'ideale, visto che solo alla guida si possono apprezzare la sua potenza, le sue nuove feature, ovviamente il sound e la velocità a cui vi può portare. Ma aspettando di farvela guidare, prova a raccontarvela al meglio. Come molti di voi sapranno, Quadrifoglio rappresenta un brand dentro al brand, una famiglia a sé e la sua genesi coincide con quello che viene chiamato Giorgio Project, da cui è nata poi anche tutto il resto della gamma Alfa Romeo. Ho vissuto in prima linea l'esperienza di Modena e ho visto nascere da zero una piattaforma a partire da un foglio bianco. Da lì si sono seguiti progetti, intuizioni, prototipi con l'entusiasmo di vedere crescere qualcosa che tutti noi percepivamo essere come qualcosa di unico. Il risultato poi è sotto gli occhi di tutti, due modelli che hanno raggiunto livelli incredibili di performance, facendo parlare di Alfa Romeo in tutto il mondo. E ancora oggi si discute di questo progetto, a danni di distanza per la particolarità con cui è stato gestito e per i risultati ottenuti tra cui un handling ancora di riferimento. E il NURBOLING poi ha oggettivato questo risultato perché di fatto il cronometro non mente mai. In questo modo Quadrifoglio ha rappresentato l'inizio di un nuovo corso per Alfa Romeo e allo stesso modo il Modellier 20 rappresenta oggi un ulteriore passo avanti, una nuova evoluzione nell'identità di Alfa Romeo. L'emozione della pista viene trasferita alla quotidianità, quindi resta la performance di un'auto supersportiva e il controllo rimane nelle mani di chi guida, ma quando si vuole l'introduzione degli ADAS ad esempio fa sì che anche i piloti con tut e casco possano decidere di rilassarsi un po' in quelle condizioni di guida che possono essere poco entusiasmanti, quali essere bloccati in mezzo al traffico. E questa evoluzione ha permesso di aprirci a nuovi target, come abbiamo fatto qualche mese fa con l'introduzione del Modellier 20 sulla gamma normale, vogliamo continuare a rivolgerci agli alfisti più fidelizzati attraverso un prodotto coerente con i valori del marchio, ma che da oggi sia in grado di abbinare per tutti la performance a un piacere di guida quotidiano, sapendo tuttavia che può regalarti emozioni uniche e coinvolgenti ad ogni accelerazione, se lo vuoi. E questo cambiamento di prodotto non poteva poi prescindere da un cambio anche a livello di comunicazione. Sergio, penso che su questo tema tu sia molto più bravo di me a spiegarlo. Ciao Fabio, grazie e buongiorno anche da parte mia. Sì, in effetti c'è stata un'evoluzione nella strategia di comunicazione del brand, una sfida particolarmente interessante che arrivava dopo una fase in cui l'obiettivo principale della comunicazione di Alfa Romeo era quella di essere focalizzata su performance e driving experience. Ma dobbiamo considerare che il mondo si evolve in maniera molto veloce, così anche le necessità del consumatore. La tecnologia oggi è al servizio soprattutto del comfort nella mobilità. Quindi la sfida era quella di avere un prodotto rinnovato da un lato, un target più ampio che, oltre che le performance, cerca anche un'auto da usare quotidianamente e quindi era necessaria una nuova strategia di comunicazione. Siamo partiti dalla ridefinizione del linguaggio, ad esempio, rendendolo più immediato, più familiare e coinvolgente. Penso, per esempio, all'uso dei testimonial che è stato fatto in maniera originale. Fuori dagli schemi è, elegantemente ironica, un po' la sintesi dell'Italian lifestyle. Ed è l'italianità e la bellezza italiana che ci hanno un po' guidato in questo percorso. Alfa Romeo è un brand iconico italiano. L'unica domanda che ci siamo posti è se l'italianità, essere un brand italiano, fosse ancora un valore oggi. E sembrerebbe di sì. Un dato tra tutti, che viene da alcuni studi, è che un prodotto italiano riesce a spuntare, a mantenere sul mercato un prezzo anche del 20% superiore rispetto a competitor non italiani. Un altro aspetto che abbiamo considerato è l'utilizzo dei mezzi. È chiaro che oggi il consumatore è abituato ad accedere a informazioni e contenuti bene o male dove vuole, è costantemente connesso. Quindi abbiamo sviluppato degli asset che fossero in linea con la fruizione digitale, cercando di dare sia intrattenimento da un lato, ma anche informazioni e risposte dove e quando gli utenti lo ritengono opportuno. La nostra comunicazione è diventata in qualche maniera più accattivante, incuriosisce il target digitale. Abbiamo usato un storytelling con multiserialità, quindi con protagonista unico Kimi Raikkonen e la moglie, ma visto in maniera abbastanza diversa dall'ordinario. È chiaro che, Fabio, nel momento in cui torneremo alla routine, torneremo in qualche modo a guidare, ci saranno anche degli aspetti un po' meno emozionali della guida, penso a stare fermi nel traffico, il traffico congestionato, situazioni in cui forse anche Kimi Raikkonen preferirebbe cedere il volante a qualcun altro. Credo che qui la tecnologia diventa rilevante per l'esperienza e un comfort diverso alla guida delle nostre macchine. Sì, Sergio, l'abbiamo fatto un po' pensando anche a Kimi, nel senso che l'interpretazione è un'interpretazione degli ADAS in chiave Alfa Romeo, quindi devono essere una tecnologia che ti aiuta in maniera intelligente ma senza essere invasiva, capace quindi di lasciare spazio a chi guida. Innanzitutto ora la gamma al quadrifoglio è dotata completamente di guida autonoma a livello 2, quindi standard, abbiamo sempre questo tipo di ausilio alla guida che potenzia il binomio comfort e sicurezza al volante. Senza entrare poi nello specifico di tutti gli ADAS, posso anticiparvi che abbiamo inserito il Traffic Jam e l'Highway Assist, che in condizioni di code traffico può alleviare lo stress del guidatore, seguendo il flusso del traffico e regolando la velocità fino a fermare il veicolo. Un'ulteriore assistenza in ottica sicurezza è offerta dal Traffic Sign Recognition, che in accordo con l'Inclusive Control regola la velocità sulle informazioni dei segnali stradali e su quadrifoglio può essere molto utile, visto che si raggiungono velocità importanti in maniera molto molto facile. L'esperienza di guida non nasce però solo dalla tecnologia e dalla performance, ma anche dal design interno e dalla scelta dei materiali. Vero Rossella? Certo Fabio, buongiorno a tutti e grazie per avermi dato questo. questo spunto. Diciamo sempre che per godersi un'Alfa Romeo bisogna prima di tutto guidarla, ma possiamo anche dire che il piacere comincia appena si sale a bordo, ancora prima di accendere il motore. Innanzitutto guidare un'Alfa è un po' come tornare a essere bambini, è un'auto che scatena quelle emozioni istintive, primordiali, sorprendenti. Oggi si parla di Kidult, l'adulto che conserva in sé il lato più curioso ed emozionale dell'infanzia. Ed è proprio all'interno di questo concetto convivono tre aspetti dell'essere Alfa, altrettanto importanti, che ben bilanciati possono realizzare in pieno il carattere di un Alfa Romeo. Parliamo di Hyper Sport, il lato che rappresenta la performance, la tecnologia, l'innovazione, l'ibridazione materica. Parliamo di Road Lover, quindi il piacere di guida, il comfort, l'appartenenza, l'heritage del brand. E ancora di Eye Catching, ovvero tutto ciò che ha a che fare con la contemporaneità, l'egocentrismo, l'orgoglio nelle sue accezioni più positive e la self-confidence. In un'auto come la Giulia Quadrifoglio si incontrano materiali diversi, da quelli naturali come la pelle e l'alluminio, a quelli performanti come il carbonio e come l'alcantara. L'alcantara è un materiale di cui non potevamo fare a meno, perché è senza dubbio un materiale che perfettamente rappresenta le tre anime Alfa Romeo. Esprime infatti performance, offrendo una sensazione di avvolgenza, di grip, di contenimento del guidatore. In secondo luogo il comfort, grazie alla sua tattilità naturale, alla sua morbidezza. In pelle è anche il volante della vettura, così che il guidatore possa accorgersi dell'attenzione italiana al dettaglio e ai materiali pregiati appena si siede in auto. È un elemento interessante di cui parlare perché è stato ridisegnato per permettere l'integrazione di alcuni ADAS. Regina Rossella, è interessante come un semplice elemento come il volante possa raccontare l'idea che sta alla base del progetto. Un segno che sintetizza la continuità e il cambiamento, il nuovo percorso del brand Alfa Romeo. Una questione sì di restyling estetico, quello del volante, ma soprattutto necessità tecnica per l'inserimento del sensore aptico al di sotto del rivestimento della corona per l'introduzione degli ADAS. Un esempio di come il disegno italiano non sia semplicemente bello ma utile, in questo caso al servizio della tecnologia. Anche il tunnel interno è stato ridisegnato in quest'ottica, aumentando gli spazi fruibili e introducendo la ricarica wireless. Così come è stata ridisegnata la leva cambio, che alla base prevede una bandierina italiana a sottolineare che bisogna essere fieri del Made in Italy e a voler ricordare che in Alfa Romeo c'è anche questa capacità tutta italiana di prendere il meglio dell'innovazione e di renderla esteticamente piacevole. A questo proposito abbiamo evoluto poi anche i contenuti dell'infotainment di Quadrifoglio. Schermo touchscreen da 8.8 pollici, che è comandabile anche con i rotary sul tunnel, dotato di nuove schermate specifiche per Quadrifoglio, con possibilità di monitorare performance, come i tempi di accelerazione o gli spazi di frenata, o parametri tecnici, come la distribuzione della coppia o la temperatura dei vari componenti, così che il guidatore possa avere ancora più tutto sotto controllo. Parlando però di innovazione legata alla tradizione, non abbiamo ancora parlato di una novità di grandissimo significato della nuova gamma, i colori. In particolare gli all-timer, Rossella, in questo sei tu l'esperta e so che avete delle cose interessanti da raccontarci. Sì, l'idea importante nel design della nuova Quadrifoglio, l'equilibrio degli opposti, ha influito in modo determinante anche nell'esplorazione e nella definizione dei colori esterni, che penso vi stupiranno perché sono innovativi, ma hanno anche motivazioni radicate nel nostro passato. Abbiamo privilegiato colori brillanti, saturi, non ci sono sfumature, no compromessi, sono tonalità per chi ama farsi notare con eleganza. La gamma colori è completamente nuova, ma ha anche un forte legame con la nostra storia, come anticipavo prima, perché da sempre uno dei caratteri distintivi delle Alfa Romeo sono state le scelte cromatiche. Vi ricordate le piccole e medie berline degli anni 70, le Spider, per non parlare della Montreal che è diventata un'icona senza tempo? Già allora era stato fatto uno studio sui colori molto importante, con risultati innovativi e fuori dal comune. A partire quindi dall'analisi delle tonalità dei colori storici, che erano prevalentemente realizzati con colori pastelli, abbiamo fatto un lavoro di reinterpretazione in chiave contemporanea, in modo da attualizzare queste tonalità alle tendenze moderne del design e della moda. Non è stato un lavoro solo però sull'estetica o sull'analisi storica, ma anche una ricerca dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Nei laboratori Alfa Romeo vengono sperimentati costantemente nuovi effetti, nuovi pigmenti, nuove tecniche di applicazioni, quali tristrati, le trasparenti colorate, le interferenze, tecniche che ci hanno permesso di realizzare i nuovi colori della gamma All Timer, il verde Montreal, il rosso Villa d'Este, l'Ocra GT Junior, che hanno una profondità e un forte flop fuori dal comune. Nel linguaggio tecnico il flop è quella qualità del colore di esaltare il contrasto tra chiari e scuri quando il colore viene colpito dalla luce. Si dice infatti che un colore ha molto flop quando nelle zone d'ombra il colore tende ad andare verso il nero, ad andare verso lo scuro e tende quindi a sottolineare le forme, le linee della vettura in modo evidente e ad accentuare l'effetto scultoreo che la vettura stessa ha. Inoltre i colori in quanto legati al patrimonio culturale storico del marchio sono fortemente legati all'Italia ed è per questo che si inseriscono perfettamente nel contesto architettonico di alcune eccellenze del nostro territorio. Un dialogo visivo autoterritorio italiano che diventa protagonista anche nella recente campagna di comunicazione. Esatto Rossella, sarà capitato credo e spero ad alcuni di voi di vedere sui social in questi giorni delle immagini di Alfa Romeo parcheggiate all'interno di eleganti salotti di alcune abitazioni. Abbiamo fatto questa campagna per sensibilizzare con un tocco di elegante ironia l'argomento Stay at Home. Ora questa campagna si inserisce in quel percorso a cui facevo riferimento prima ed è parte di un progetto che abbiamo sviluppato con Ad Italia. Il mensile con De Nasta che è una voce autorevole nel mondo dell'architettura, del design, dell'arte e dello stile. Abbiamo in qualche modo voluto raccontare quella bellezza italiana attraverso un viaggio nelle case di design e nei cortili nascosti in Italia. Sappiamo che l'Italia è un paese straordinario ma che molte delle bellezze del nostro paese in qualche modo sono nascoste da scoprire. Lo stile per Alfa Romeo è un linguaggio esattamente come il colore di cui parlavi tu. che è sempre stato per Alfa Romeo un elemento non solo estetico ma strategico e distintivo delle vetture che racconta la nostra storia. Quindi questa cura nel dettaglio la ritroviamo nella campagna di comunicazione che abbiamo sviluppato perché i cortili non sono stati scelti a caso, sono stati scelti degli ambienti e dei cortili per esaltare i colori delle nostre vetture. E anche il complimento del nostro centodecimo anniversario ci ha dato l'occasione di ribadire anche in comunicazione che sebbene ci siano trasformazioni nei gusti e negli stili l'ereganza invece per Alfa Romeo rimane un caposalto che l'hanno reso in qualche modo un'icona italiana senza tempo. Proprio così, è un'icona senza tempo ma a questo punto lasciate che vi riassuma le novità di questo Modellier 20. Quindi oltre a quello che abbiamo già citato, nuovi interni, nuovo infotainment e agli ADAS una delle grandi novità della gamma quadrifoglio Modellier 20 sono sicuro entusiasmerà gli appassionati come me. E questa è la possibilità di avere oltre all'impianto di scarico di serie un particolare sistema Krapovic in titanio e caratterizzato anch'esso da quattro uscite montate in diagonale che sono la firma delle nuove Alfa Romeo quadrifoglio ma in questo caso i codini sono rivestiti in carbonio e si tratta sempre di un dual mod che in modalità race apre le valvole di scarico rendendo il suono ancora più coinvolgente e accattivante. Il motore rimane il 6 cilindri Alfa Romeo con V di 90 gradi che regala questa tipica sonorità alle quadrifoglio grazie anche ai due turbo che garantiscono i 510 cavalli. In modalità Advanced Efficiency l'elettronica di gestione è in grado di disattivare una bancata quindi avendo benefici sia in termini di consumi che di emissioni con il motore che lavora con soli i 3 cilindri. Il cambio è il veloce ZF che tutti conosciamo con l'Eval Tunnel e Pedals sempre presenti per poterlo comandare in modalità manuale sono Pedals in alluminio fissi sul piantone per il semplice motivo che vogliamo fare sì che il guidatore possa cambiare anche quando lo sterzo è oltre i 90 gradi e se è un guidatore particolarmente smaliziato dargli la possibilità di cambiare anche quando è in modalità drifting. Con le performance delle quadrifoglio sarà molto probabile poi che le riuscirete a vedere solo da dietro e quindi avrete così modo di vedere i nuovi fanali bruniti di Giulia e di Stelvio quadrifoglio che contraddistinguono la gamma Modellier 20. Se invece sarete tra i nostri clienti potrete giocare con i contrasti tra i nuovi colori esterni e le pinze freno oppure giocare tra gli abbinamenti interni di cuciture di plancia in pelle o sedili e cinture di sicurezza che adesso sono disponibili anche colorate per esempio si può configurare la vettura con le tipiche cuciture bianche e verdi di quadrifoglio e le cinture di sicurezza verdi scegliendo poi tra i sedili sportivi oppure i più profilati sparco che hanno lo schienale in carbonio o ancora tra il misto pelle alcantara oppure gli interni in full pelle. C'è da dire che appagano la guida ma anche esteticamente sono molto belli e parlo dei freni carboceramici sempre disponibili sia su Giulia che su Stelvio e che si vedono poi particolarmente bene se andiamo a dotare il nuovo Stelvio dei cerchi da 21 pollici è la prima volta che li vediamo su Stelvio quadrifoglio con questa taglia e questo design. A proposito di guida il feeling di sterzo è sempre stato uno dei punti di forza di Giulio Stelvio e non potevamo non mantenere questa eccellenza anche con il nuovo quadrifoglio una continuità con l'idea di Alfa Romeo del driver che rimane comunque sempre al centro. Aggiungerei che il tema della continuità e della coerenza si esprime anche da un punto di vista cromatico a sottolineare il fatto che per Alfa Romeo i particolari fanno la differenza. Noterete infatti che le finiture scure del badge e del trilobo già presenti sulle vetture sportive sulle versioni sportive di Giulio e Stelvio ora sono anche su quadrifoglio. In quanto icona dello stile italiano direi che nulla è lasciato al caso su questa vettura. Rossella non posso che essere d'accordo, il Made in Italy di Alfa Romeo lo coglie proprio da questa attenzione maniacale ai dettagli. Come dicevo all'inizio Alfa Romeo ha sempre dimostrato questo orgoglio di essere un'azienda e un brand italiano. Nel prossimo futuro siamo pronti a comunicarlo ancora di più e non parlo solo come brand ma anche come italiani. Credo che decenti cambiamenti abbiano modificato quello che è il concetto dell'uomo al centro che non è più un'idea di prodotto. Oggi ha a che fare anche con quella riscoperta del valore del tempo, della qualità della vita banalmente al potersi muovere nello spazio. L'auto cambierà percezione e sarà considerata ancora di più un mezzo sicuro per spostarsi sicuramente ma anche ciò che ci permetterà di tornare a muoverci, protetti nel rispetto di quella che oggi si chiama social distance, uno spazio individuale e familiare per la mobilità. Quindi meglio che sia anche bella, funzionale e confortevole come le nostre vetture. Alla fine credo che il consumatore sia alla ricerca di qualcosa per cui sognare ma anche di qualcosa di autentico. Alfa Romeo è portavoce di autenticità delle cose belle ma anche e soprattutto fatte bene e non vediamo l'ora di ricominciare a comunicare e a lavorare. Sì, sono d'accordo con te Sergio, non vediamo proprio l'ora di ripartire con l'entusiasmo di sempre ma soprattutto non appena sarà possibile sono sicuro che ci ritroveremo insieme per provare le quadrifoglio. Bene, vi ringrazio per questa chiacchierata. Adesso però, prima di rispondere ad alcune domande che ci sono arrivate vorrei cogliere questa occasione per presentarvi il nuovo responsabile del marchio Alfa Romeo per la regione MEA. Grazie per l'introduzione Alessandro. Mi piace di prendere questa opportunità di introduire un'introduzione. Mi chiamo Arno Leclerc e sono il nuovo head di Alfa Romeo for the MEA regione, Europe, Middle East and Africa. As I said when I joined this company other two years ago, there is so much innovation, heritage and passion in every FCA brand. And I'm particularly delighted to be here now to talk about Alfa Romeo as we approach our 110th anniversary. Before I continue, I wish to recognize the fact that we are all facing extremely challenging times due to the coronavirus pandemic. And I hope that you and your families are keeping safe and well. Here at FCA, we lost no time in introducing measures to protect the health and safety of our employees and implementing a number of initiatives to support local communities, first responders and health workers. As I continue my job as the Managing Director of FCA UK, in parallel to this new appointment, I'm reminded of just how dedicated all our employees are in every single market. Our staff are working tirelessly with our retailers and suppliers, trying to keep all our businesses running as much as is possible, while of course abiding by local government legislation and guidance. For example, we very quickly established new technology platforms, introduced virtual showrooms and chat areas in our websites to ensure our retailers have been able to stay in contact with their customers and assist with any inquiries. Coming back to Alfa Romeo specifically, I think you will all agree that here in Europe, this brand is synonymous with high and rich heritage, enduring style and engaging driving dynamics. These attributes, along with the important Made in Italy label, are at the core of Alfa Romeo, as we continue to promote the brand around the world. Alfa Romeo is currently going through a remarkable period of transformation. Late last year, we unveiled the new Giulia and Stelvio Modelo 20. I believe both models have taken the leap forward in terms of technology, comfort and safety, while still maintaining their dynamic prowess, which makes them benchmarks in their respective segments. Then, you may recall that in early March this year, we surprised you all with a very striking Giulia GTA. We are launching this model as a special gift to all the electricity and car enthusiasts out there. It's a tribute to one of the icons in our motor racing history, namely the 1965 Giulia GTA. As we start to come out the other side of this pandemic, I will be relying on the invaluable support of my team and the wider teams in our markets more than ever, to help me harness the passion and enthusiasm We all share with this brand, to continue to promote our products to new audiences. There is one last thing I'd like to share with you. While F1 has been required to take his foot off the accelerator for the moment, we, at Alfa Romeo, have continued to be in close contact with our drivers. And to demonstrate this, I would like to show you a preview of Kimi's latest advert. This will go on air for the sales launch of the new Quadrifoglio. And before the advert commences, please make sure you are wearing headphones. Trust me, when it comes to emotion, Alfa Romeo reigns supreme. I very much hope that the next time we meet, it will be in person. In the meantime, I wish you and your families all the very best. As you again, As you again As you again, as I do, A bit of thought for a lot of your disciples, Rossella, Sergio e Fabio per essere intervenuti, ma soprattutto ringrazio voi per il tempo che ci avete dedicato e per essere stati con noi. Ci vediamo presto!